Molte persone non si rendono conto che l'aria non è trasparente. Useremo diversi fogli per il nostro esempio. Inoltre useremo dei gel per l'acqua e la bassa linea di galleggiamento. Questo simula l'orizzonte della Terra dove viviamo. Ogni foglio rappresenta diverse miglia. La chiave è che le persone dovrebbero comprendere che l'orizzonte che si vede non è l'orizzonte esatto. Se non ci fosse l'aria, l'acqua e nessun'altra cosa, l'orizzonte si troverebbe basso su un piano perfetto. Le persone non sanno bene cos'è il punto di fuga, la prospettiva ed il funzionamento della Terra piatta. E qui mostreremo invece come lavora. Il primo concetto è la densità dell'aria. Avete guidato ancora in una giornata nebbiosa? Non si riesce a vedere che ha pochi metri davanti a noi. Prendiamo questo esempio dell'orizzonte di Chicago, di quello che dovrebbe essere impossibile vedere da 40 miglia di distanza. Alcuni chiedono, perché i grattaceri sono tagliati? Ma non è ovvio? Qui vedete nuvole d'aria. Quello che si dovrebbero chiedere è, perché riusciamo a vedere i grattaceri che non dovremmo vedere per niente se la Terra non è piatta? Quello che è molto importante è comprendere che ad ogni miglia aumentano i componenti di gradienti dell'aria attraverso cui noi guardiamo. Se poniamo diversi fogli di plastica trasparente uno davanti all'altra, formiamo una barriera che ci impedisce di guardarci attraverso. L'atmosfera è composta da ossigeno, zinco, carbonio, idrogeno ed altri componenti chimici che formano un muro di densità. Vediamo in azione questo esperimento. Come potete osservare, il Sole viene tagliato prima in basso, ma questo non è tutto. Ci sono parecchie cose da scoprire in questo esperimento. Prima di tutto si vede la luce diminuire attorno al Sole mentre tramonta. Questo è esattamente quello che vediamo nella realtà. Quando nel nostro esperimento il Sole tramonta, vediamo che cambia colore, come nel tramonto reale. Una delle maggiori differenti nel nostro esperimento è che è fatto in piccola scala e con un minimo budget, ma il vantaggio è che potete farlo voi stessi a casa vostra. Adesso andiamo a paragonare l'orizzonte che vedete quotidianamente, ma prima di farlo desidero comprendiate la prospettiva. Come potete vedere, le cose che si muovono in direzione dell'orizzonte diventano piccole, basse. Il fatto che appaiano basse è causato dalla prospettiva. Potete verificare questo guardando un lungo corridoio. L'altezza delle luci nel corridoio sono sempre le stesse, giusto? Alcuni pensano che nella Terra piatta, quando le cose toccano l'orizzonte, divergono rispetto all'ottica. Nonostante questa sia un'idea interessante, noi lavoriamo con le cose logiche che possiamo provare in un esperimento. Attraverso la densità dell'aria potete verificare il tramonto senza ridicole linee divergenti, per quanto vere possano essere. Nel nostro esperimento potete vedere che abbiamo un'atmosfera bassa, una media ed una alta. Riuscite a comprendere che l'aria diventa più sottile e con più si va in alto? Questo è causato dal galleggiamento. Vedete che le cose meno dense si separano dalle cose che hanno maggiore densità. Ecco il motivo per cui le nuvole galleggiano ed il motivo per cui i balloni di helio si alzano. È quello che forma il gradiente verticale. Noi abbiamo un gradiente d'aria orizzontale ed uno verticale. Infatti, la velocità con cui le cose cadono dipende interamente dal galleggiamento. Se lasciate cadere una cosa nell'acqua, essa cade più ad agio di quando cade nella bassa atmosfera. Se vi tuffate ad una bella altezza, vi immergerete più veloci di quando vi tuffate dall'aria all'acqua. Cadete prima veloci e poi piano. Ora, se mettiamo insieme tutte le tre idee, otterremo questo. Dall'orizzonte ci sono da 10 a 20 miglia di muro d'aria. E questo muro d'aria dipende dal tempo atmosferico. Se ricordate, a gradienti verticali ed orizzontali. Pensate come ad un muro diagonale o di una scala verso il cielo. Come con un'alta umidità il muro appare più vicino. Con la bassa umidità il muro sembra più lontano. Qualche volta centinaia di miglia sono i componenti dell'aria. Bene, diciamo che il sole tramonta oltre quel muro. Va oltre adesso. Ricordate quando abbiamo detto che più lontano andiamo, più le cose appaiono piccole e basse? Giusto? L'orizzonte è una linea estrema, che qui è rappresentata come il punto di fuga. Vedete il muro di aria alto da 10 a 20 miglia e, inoltre, ricordate che ci sono le nuvole che bloccano la nostra vista. Vi ricordate il galleggiamento? Bene. Ad alta quota l'aria è più sottile, pertanto il muro è più lontano. Ecco spiegato perché il sole cambia colore prima di tramontare in una giornata limpida. È bloccato dal galleggiamento dell'aria, che poi è tagliato nella parte bassa dall'aria più pesante. Cercate di pensarci. Quando un muro alto 10 o 20 miglia limita il vedere di sole lontano migliaia di miglia, di sicuro. Qui un diagramma che rappresenta quello che sperimentiamo. Lo spettatore è la linea dell'orizzonte. Il sole viene tagliato sotto quando si trova lontano migliaia di miglia. Non è un disegno in scala, ma fornisce l'idea. Potete fare anche dei calcoli matematici, se vi va. Disegnate un triangolo, immaginate l'orizzonte col punto di fuga che si trova lontano da 50 a 100 miglia e così potrete vedere che, se anche il sole è alto, andrà a cadere dentro l'orizzonte. Nel nostro esperimento, quello che non siamo in grado di vedere è il grande effetto che ha l'aria nei confronti del sole. Tende a dilatare il diametro. Questo è il motivo per cui non lo vedete rimpicciolire al tramonto, come invece dovrebbe succedere. È vero che si restringe, ma è vero anche che si ingrandisce. Infatti, se filmate il tramonto ad una grande altitudine e con l'aria secca, si rimpicciolirà molto. La stessa cosa accade se vedete il sole in timelapse da un aereo. Si vede il sole rimpicciolire. Approfitto di questa opportunità per rispondere su alcune critiche poco informate sul movimento dei Fratert. Le persone chiedono, perché non si riesce a vedere New York dall'Inghilterra? Si può rispondere con una sola parola, l'aria. Ci sono altre domande come, perché non si riesce a vedere la stella polare dall'all'Sud? E nuovamente, l'aria. Andiamo a vedere le navi all'orizzonte con questa nuova prospettiva. Quello che la densità dell'aria ha effetto è anche sul livello dell'acqua. Ricordiamoci del diagramma. Lo sapevate che l'aria sopra l'acqua è pregna del vapore acqueo? È certamente, è ovvio, è dato dal galleggiamento. Potrebbe non sembrare importante, ma invece ha una notevole importanza nell'ottica dell'immagine. Provate ad immaginare che usiamo questo gel blu anziché il gel trasparente. Sareste in grado di vedere la differenza tra la linea d'acqua e migliaia di queste gelattine poste una sull'altra aumentate da molte miglia? Vediamo alcuni esempi. Qui si vede la nave che è quasi invisibile. L'aria quasi la blocca completamente. Da lontano quest'aria è così densa che addirittura riflette nell'acqua sotto. Questo effetto sopra la linea dell'acqua rende impossibile poter vedere la parte bassa della nave. Riesce a causare anche una luna più alta d'acqua, incluse le parti basse degli edifici e spiagge. Ricordate che negli oceani ci sono anche le onde. L'acqua e l'aria creano dei modelli ondeggianti quando andate ad ingrandire. Ecco il motivo per cui è meglio fare esempi tipo sul lago salato piatto boliviano. Esempi dal monte Everest o da altri luoghi sono ideali per provare che non esiste curvatura. E dovreste informare le persone sui componenti del vapore acqueo. Effetto Morgane in Italia. Sulla linea d'acqua sembra che le navi galleggino e delle volte creano degli effetti visibili divertenti. Immaginate di vedere il tramonto sopra l'oceano e tutto quello che fa l'acqua sull'orizzonte. Sicuramente crea il punto di fuga, ma anche la composizione delle nuvole va sommata perché ostruiscono l'orizzonte. E per ulteriori ricerche, osservate le linee convergenti e divergenti sulla prospettiva dell'orizzonte. Dovete considerare anche la lente dei vostri occhi e quella della macchina fotografica per interpretare questo. Il tramonto che si vede sulla Terra funziona benissimo sulla Terra piatta perché il cambiamento del diametro del Sole, dove la luce rimpicciolisce, si vede anche sul percorso del Sole nel cielo. E ci sono molti video che svantellano il globo terrestre a favore della Terra piatta. E se avete visto il video fino a questo punto, sarò felice se farete altre ricerche su questo soggetto. Quando si cerca la verità, non è importante se il mondo non è d'accordo con voi. Se siete nel giusto, siete nel giusto. E la verità vi renderà liberi. Le pecore seguono i governi ciecamente e nessuno ascolta la pecora nera perché la pecora nera non si trova in una posizione di autorità. Ma la pecora nera vede qualcos'altro, o no? Con onestà la scienza ha fatto anche cose oneste e belle, di cui condivido certe idee. Io spero che questo video sia stato educativo e mi auguro che poniate l'argomento del Sole, del tramonto a riposo.